Come è noto, la Giunta Comunale ha da poco espresso con una delibera alla numero 219 del 27 maggio parere favorevole alla proposta di cambio di destinazione d'uso di una parte del capannone ex Sercom che si trova a pagliare di Sassa. Il Consiglio di partecipazione numero 3 di Sassa, però, dopo una lunga discussione e dopo la richiesta del Comune di un parere consultivo, ha fatto emergere molti dubbi e criticità sulla proposta di cambiare la destinazione d'uso da commerciale direzionale ad uso industriale. Una storia infinita per un'eterna incompiuta che giace abbandonata ormai da anni. La cittadinanza ritiene quell'area sprovvista innanzitutto di servizi per nucleo industriale di tipo residenziale e con una viabilità già molto critica nella zona di Sassa. In sostanza, il CTP ritiene che la zona non può accogliere un sito industriale senza impatto sulla residenzialità e sull'ambiente. Si tratta poi di un'area vicino a vincoli paesaggistici e a ridosso di case sparse, di progetto case, di paesi come Gensano, Pagliare e Palombaia di Sassa. Il Consiglio si chiede pure come mai un'area che a vocazione di residenzialità e buona qualità della vita non venga ridefinita all'interno del piano regolatore. Ad oggi, peraltro, non si conosce un nome certo di un'azienda che sia interessata e il Comune non ha neanche chiarito su eventuali interventi che intenda fare sul territorio per rendere l'area sostenibile ad un tale cambiamento, né si hanno garanzie sulle ricadute occupazionali. Il Consiglio di partecipazione, alla luce di queste riflessioni, ha rinnovato l'invito al Sindaco Cialenti a parte della Giunta di presentarsi in assemblea pubblica per discutere del futuro dell'ex-cercom e anche del piano case immediatamente adiacente.